Bentornati ragazzi qui con Rallonso per una nuova puntata di Kona, un bellissimo gioco misterioso di avventura e di funzione. Andiamo avanti, siamo usciti dall'Emporio e adesso dobbiamo cercare di entrare nella casa del dottore che per fare così ci serve anche la chiave, speriamo di trovarla adesso che alla fine dell'ultima puntata non l'abbiamo potuto trovare, eravamo anche sotto la neve, sotto il freddo e avevamo anche finito il tempo a disposizione perché abbiamo su per giù. Il cowboy canadese Il cowboy canadese Il cowboy canadese ... ... ... ... ... ... Carl knew straight away where to find the infuriated Gilles Lachance. Any good investigation would have to start there. In the next video, we have to find the information on the left side of the river. We have to find the information on the left side of the river. This is the information on the right side of the river. Grazie a tutti 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 A window Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.